Ciao, io sono Flip E io sono Tao Ed oggi vi insegneremo a fare uno slime bavosissimo Gary, sei qui dentro? Gary Gary, avete visto Gary? No No Gary Gary, Gary Gary, ma dove sei finito? Dove sei finito Gary? Se ci sei, fatti vedere Dove si è cacciato? Ehi, che fai? Ciao Flip, sto cercando Gary Gary? Non c'è, ho già cercato da tutte le parti, Flip Gary! Da queste parti non si trova Sicuramente Spongebob sarà distrutto Magari non è qua Se Gary fosse qua, ci sarebbe tutta bava intorno Non si potrebbe camminare Slip Sei un genio! Lo so che sei un genio, lo dice anche la mia maglietta Wow! Hai una maglietta con su scritto genio? Eh sì Ma no, non intendevo questo Intendo dire che siccome Gary è super bavoso E Spongebob sarà tristissimo non vedendo la sua bava in giro per casa Per tirarle sul morale Potremmo costruire un super slime bavoso E così sarà come se Gary non se ne fosse mai andato Easy! Allora sì, perché non lo costruiamo? Dai, facciamolo insieme Oh, buongiorno Gary! Uh, questa è bava di lumaca Ma molto emolliente Quindi ti piace l'idea? Sì, possiamo farla Possiamo farlo Ok E posso darti una mano? D'accordo Flip Ho un'idea Ho un'idea perché questa volta non facciamo uno slime gigante Tipo, tipo, tipo Tipo enorme Come i Sette Mari Come l'oceano Come una barca Ho sempre un po' paura delle tue idee Flip Quanto grande lo vuoi fare questo slime gigante dei mari? Così grande Tutto questo di slime? Sì Beh, in effetti ce ne servirà un bel po' Se lo vogliamo cospargere su tutta la casa di Spongebob Quindi sai cosa ti dico? Ci sto Ci stai? Sì Vero? Davvero? Andata Andata Perfetto Perfetto Incominciamo Allora Dato che ne faremo così tanto Sinceramente Meglio non stare a guardare le dosi esattamente Tanto ce lo ricordiamo No, mettiamo La prima cosa da fare è mettere la Colla Bravissimo Allora Ne hai portata un bel po'? Sì Ok, perfetto Allora Iniziamo subito Eccola qui Mamma mia Quanta ne hai presa Flip La mettiamo tutta? Certo Ok Allora Tutta la colla All'interno Mamma mia Aiutami Flip È pesantissimo Ok Allora La prossima cosa da mettere sarebbe? Allora Sicuramente il bicarbonato Ok È tutto qui sotto Ok Perfetto Wow Ma è tantissimo Ok Ci metteremo una vita Flip Ci vuole un bel po' Ottima tecnica Ora sì che sembri il re dei mari Mia madre mi ucciderà per questo Beh Sai cosa ti dico? Se qualcosa va storto pulisci tutto tu Perché l'ultima volta hai fatto un pasticcio Ok La colla è finita Credo L'hai messa tutta? No Così magari la prossima volta ci penserei due volte prima di fare uno slime gigantesco Ci penserò dieci volte Mi sto sporcando tutto quanto Wow Flip Sembra veramente un mucchio di latte Collaterale Adesso è arrivato il momento di mettere il bicarbonato Perfetto Vai Vai lo verso tutto eh Sì eh Mamma mia Spero che tutta questa bacinella basterà con tutta la colla che hai messo Adesso lo versiamo tutto quanto Ok e io prendo Non respiro più Colorante alimentare blu Mi raccomando questo baci piano perché Gary è azzurrino non è proprio blu come questo Sì però per la quantità di colla e di roba che c'è magari secondo me può bastare Inizia poco 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 E io intanto inizio a mescolare Wow Ok Perfetto Iniziamo a girare il nostro mega slime Ecco qua Qui ci vuole un sacco di olio di gomito Vuoi che ti aiuti? Sì dai grazie Prova a mescolare tu Ok È un lavoro molto impegnativo Eh sì Bravo però Non pensavo che avessi tutta questa forza nelle braccia E chi ce l'ha tutta questa forza nelle braccia? Gira 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 ancora Ah vedi che diventa azzurro Sì hai ragione ho avuto troppa paura Mettiamolo tutto il nostro colorante alimentare Sì mettiamolo tutto Ecco qua Sicuramente verrà bavosissimo Ho voglia di metterci la mano dentro Non ti consiglio di farlo Flip Ricordati che mi hai promesso che avresti pulito Wow Oh secondo me sta venendo molto bene il colore È proprio azzurro Una piscina di slime Stupendo Sì il colore l'abbiamo proprio azzeccato È proprio identico identico a quello di Gary Sì può fare Sì può fare Franken slime Ok secondo me adesso possiamo mettere il liquido Penso proprio che sia arrivato il momento Adesso una bacinella intera di liquido per lenti a contatto Il nostro slime inizierà a formarsi Tu continua a girare Flip Sì sì Bravo Perfetto Hai visto si sta già creando Ah sì? Sì 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 non ti preoccupare Tu continua a girare Te l'ho detto ci vuole olio di gomito Come SpongeBob quando cucina i suoi crabby patti Ecco fatto Bellissimo Vuoi una mano? Ho voluto mettere il dito nello slime E stai già sporcando le mie conchiglie Wow Un cucchiaio prendi un po' Dai Fammi provare dai Però te la condisci tu Bellissimo Te l'ho detto che si stava creando Dai gira gira Va bene dai Inizio a girare Però non sono brava come te Tu cucini tutto il giorno Sei abituato Easy Wow Ma è melmosissimo Ci vorrà mezza giornata per girarlo tutto Ma ne varrà la pena Ne sarà valsa la pena Flip Grazie alle mie doti magiche Schioccherò il dito E in due secondi sarà pronto Direi che questa volta siamo stati proprio bravi Flip Io restare qui a giocare per sempre Già Però dobbiamo andare Dobbiamo iniziare a cosporgerlo in tutta la casa di SpongeBob Forza aiutami No io voglio restare qua a giocare Dai Flip Io inizio ad andare mi raccomando dai Flip ma cosa stai facendo? Lo slime in faccia Io ti sto per correggere È uno slime bavoso in faccia E tutti sanno che lo slime bavoso Aiuta a rendere la pelle molto più liscia, morbida Non vorrei deluderti ma la bava di Gary Rende la pelle morbida Non ti aiuterà certo il nostro slime Ma io sono Poseidone La Poseidone non si dice di no Perché questa bava vi renderà più bella e più forte che mai Dai re dei mari dobbiamo andare Aiutami D'accordo SpongeBob Sta arrivando Karma e coraggio amico Vedrai che la tua lumachina prima o poi salterà fuori Ah e stavo dimenticando Se anche voi volete scoprire che fine ha fatto la nostra lumachina preferita Non dimenticatevi di guardare il nuovo film SpongeBob Amici in Fuga Solo su Netflix Ciao Alla prossima puntata